Da giovedì 23 settembre a domenica 26 settembre avrà luogo a Gorizia Gusti of Gorizia Riparte. Causa Covid è impensabile organizzare una grande manifestazione a Gorizia come Gusti di Frontiera, ma la tradizione in ogni caso verrà rispettata. Gusti of quest'anno prevede comunque di accogliere 60 stand dal Friuli Venezia Giulia, Francia, Austria, Slovenia per poter gustare i prodotti tipici della mittele Europa. Naturalmente tutto ciò in rigorosa sicurezza, ripeto, rigorosa sicurezza dell'osservazione maniacale delle prescrizioni. Perciò ci sarà obbligo assoluto di Green Pass per tutti coloro che accederanno alle aree. Quali sono queste aree? L'area di Piazza Cesare Battisti e dei giardini pubblici, Piazza della Vittoria e Via Roma. 11 saranno i barchi, il Green Pass potrà essere chiesto all'accesso o potrà essere chiesto anche a campione nelle aree predette. Bisognerà consumare sia il bere che il mangiare da seduti. In più avremo un contenitore culturale, appuntamento culturale in cui potremo proporre conferenze, conveni, dibattiti, presentazioni di libri e altri appuntamenti per riflettere anche su quanto è accaduto in questi due anni. Perciò Gorizia partecipa a questa voglia di rinascita, a questa voglia di ripresa.